Abbiamo parlato molto fino adesso, tanti discorsi, ok, però da dove cominciamo? Cosa possiamo fare praticamente per essere un DJ o per migliorare il nostro essere DJ? Io direi di partire dall'ascolto. Si dice che il 70% di un musicista è dato da quello che ascolta e se è possibile per il DJ è ancora più vero, ancora più a maggior ragione. L'ascolto è una componente fondamentale di quello che è un DJ. Cosa intendo per ascolto? Ascolto vuol dire fare ricerca, selezionare musica nuova, oppure anche approfondire l'ascolto di quello già conosci, di quello già utilizzi. E poi, ultimo ma assolutamente non meno importante, significa ascoltare gli altri, ascoltare le serate, ascoltare il set dei DJ più famosi o degli eventi più importanti. L'ascolto è ciò che ti caratterizza. Dall'ascolto ti interiorizzi e poi riesci ad esprimerti con la tua musica quando fai le serate o quando registri i tuoi set. Il consiglio pratico di oggi è cerca il più possibile e inizi ad ascoltare attentamente qualsiasi cosa. Non mettere limiti alla tua curiosità. Fai ricerca, cerca di caratterizzarti ancora di più. Ascolta di tutto, anche se ti piace la tecno e sei un DJ tecno. Prenditi un disco di jazz, prenditi un disco di blues, prenditi un po' di musica etnica, un disco di musica rilassante oppure musica di sottofondo di un centro estetico. Cerca di ascoltare di tutto le cose più diverse. Oggi non ci sono limiti a questo. Con internet, i servizi di streaming musicale, video su YouTube, le dirette Facebook. Adesso puoi veramente trovare di tutto. Anzi, una caratteristica di questa società è il fatto che quando hai così tanta disponibilità finisci che utilizzi quello che già conosci. Di fronte a una possibilità immensa, praticamente infinita, in realtà finisci a sentire le stesse poche cose. Questo è un meccanismo normale perché quando sei sperso di fronte a una vastità hai bisogno dei tuoi punti fermi. Quindi l'esercizio di oggi è cercare nuovi punti fermi, allargare i tuoi orizzonti e approfondire con una pratica quotidiana l'ascolto.